La leggenda narra che nel 1705 Don Domenico Tanzella si è guarito dopo aver bevuto l'acqua di un pozzo miracoloso di acqua pevana e che dopo essersi ripreso calandosi nello stesso pozzo un'immagine della Madonna precedentemente venuta all'insonio si sia staccata dalle pareti finendo tra le sue braccia. La storia sarebbe accaduta in Capurso e il quadro e quello che oggi si trova nella Reale Basilica costruita successivamente a poca distanza da quel luogo. Torna la festa della Madonna del Pozzo nel 318esimo anniversario del rinvenimento dell'immagine che si celebra il 30 di agosto un appuntamento molto sentito dai capursesi ma non solo. E' andato in sogno al prete Don Domenico Tanzella se bevi l'acqua del pozzo guarirai la Madonna e infatti poi con alcuni compaesani è andato lì e c'era questo dipinto. Una festa che ti dice per tutto il mondo per dirti e vengono parecchie persone. Quest'anno c'è anche Tommy, un giovane i cui nonni emigrarono in America e che fa parte di una grande comunità di capursesi che oggi vivono a Chicago. E' la prima volta che vengo a Capurso, è la città di mio nonno. Ho sempre sentito parlare della festa della Madonna del Pozzo e volevo vedere con i miei occhi che cosa fosse. E' bellissimo vedere la fede di tutte queste persone, il modo di pregare, tutti insieme. E questa comunità è parte della mia vita. Essere qui dove si tiene la festa è fantastico. Per questa edizione è stato organizzato un calendario fittissimo di eventi. Si parte questo venerdì sera con l'accensione delle luminari a cura della ditta Paulicelli Light Design e la processione del quadro, la contour band e DJ dello show Demo Dayland. Sabato sera invece l'offerta delle corone della festa della Madonna e poi alle 22 l'atteso spettacolo di Nino Frassica and the Lost Plagers Band. Domenica mattina invece la concelebrazione eucaristica con la processione della sacra immagine della Madonna con il corteo storico della sera e la festa che proseguirà fino a mercoledì 30 con il corteo storico dal Pozzo La Basilica. Le manifestazioni proseguiranno anche nei giorni successivi con l'ottava della festa e la Sensazioni Beer Fest fino al 3 settembre. Il bello della festa della Madonna del Pozzo è la possibilità di accogliere. Capurso in occasione della festa, in realtà sempre, ma in occasione della festa in particolare diventa un paese molto molto accogliente. Il clou della festa è la processione, soprattutto quella della domenica mattina in cui la Madonna del Pozzo gira le strade del paese e torna in Basilica alle 6. Quello è il momento in cui si concentra più gente in assoluto, soprattutto in questa zona del Sagrato. Poi, come si diceva, c'è un programma ricco anche di attività diverse da quelle religiose. C'è il momento di Nino Frassica sabato sera, che è molto atteso e di cui si sta parlando molto, ma poi c'è tanto altro. Grazie. Grazie. Grazie.